Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Per la canteristica Ena 1 panoramica lavori notturni le notti del 18, 19 e 20 maggio in orario 22,6 che comportano la chiusura del tratto compreso tra BV1 Variante, La Quercia e Rioveggio in direzione di Roma. In FIPILI ricordiamo che sono in corso lavori di miglioramento della sicurezza all'altezza del turbone e possibili disagi alla mobilità tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Ultima pagina in riferimento al proseguire della fase 2 dell'emergenza sanitaria. Ricordiamo che da domani, lunedì 18 maggio, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione o controllo. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!